benvenuti al canale il volantino questo è il volantino penny market valido dal 19 al 29 gennaio 2023 se volete vedere meglio una pagina vi basta fermare il video se avete suggerimenti oppure vi interessa il volantino del vostro negozio preferito vi preghiamo di commentare saremo felici di aiutarvi vi auguriamo di trovare le vostre offerte preferite grazie e buona visione grazie a tutti se questo canale vi piace e vorrete restare sempre aggiornati sui nuovi volantini vi suggeriamo di iscriversi al nostro canale grazie grazie a tutti 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 grazie a tutti